Il Martempo che è imperversato e creato disagi in gran parte dell'Italia ha colpito anche la città di Cava dei Tirreni. Infatti l'ultimo episodio in ordine di tempo è accaduto in via Tenolfi, la cui parte finale che incrocia con via Abro risulta chiusa al transito veicolare dalla giornata di ieri. La strada, già in diversi punti caratterizzata dalla presenza di buchi avvalamenti, non ha retto alle ultime piogge cadute sul nostro territorio nei giorni scorsi. Il tratto di strada, attualmente chiuso, che dall'ex convento dei Cappuccini passando per via Tenolfi giunge fino al centro cittadino, era già in lista tra le strade che necessitavano lavori di riqualificazione e sarebbe stato a breve chiuso per permettere l'inizio dei lavori. Il tratto di strada attualmente interrotto, fa sapere l'assessore ai lavori pubblici, Nunzio Senatore, sarà interessato a partire dalla giornata di domani da lavori da tempo programmati alla rete del gas, che dureranno una settimana. Successivamente, al termine dei lavori alla condotta del gas, inizieranno i lavori di rifacimento del manto stradale con la risistemazione dei San Pietrini. Tali lavori, compatibilmente con le condizioni meteo, avranno una durata di 20 giorni circa. A partire da domani, sarà invertito il transito veicolare in via Giovanni Ciranna, che si potrà percorrere da via Abro in direzione di via Tenolfi. Già da tempo è in programma un importante intervento su via Tenolfi da parte della società che gestisce la rete del gas nella nostra città. Dopo l'inconveniente che si è verificato nella giornata di ieri, abbiamo conciliato le due attività. Ci sarà una prima fase dove la due rete del gas farà il suo lavoro e immediatamente dopo ci sarà l'intervento di ripristino della strada ammalurata. Tutta l'attività avrà una durata tra i 25 e i 30 giorni. Nel frattempo, per garantire la viabilità, tra oggi e domani ci sarà il cambio del centro di marcia su via Ciranna, che non sarà appinsalita ma indiscisa. Quello di via Tenolfi non è stato l'unico episodio conseguenza del martempo. Domenica scorsa, in via di Marino, un albero di alto fusto, a causa della fragilità del suolo accentuata dalla pioggia, si è sradicato dal cortile del liceo scientifico Andrea Gianoino, invadendo la carreggiata e bloccandola al transito veicolare per diverse ore. Altri episodi di minore entità si erano verificati anche in via delle arti dei mestieri, dove molti rami spezzati dalle raffiche di vento particolarmente intense hanno invaso la strada, creando disagi agli automobilisti.